Buonasera a tutti e benvenuti. È un onore particolare fare questa sera gli onori di casa e salutarvi e salutare l'inizio di questo terzo ciclo di letture dantesche che noi apprezziamo in maniera particolare e per il quale siamo grati alla società dantesca italiana e all'ente cassa di risparmio che le rende possibili perché portano in questo contesto straordinario, non dovrei essere io a dirlo ma uscire in palcoscenico è sempre un'emozione particolare anche quando uno la ripete tutti i giorni. Ci portano Dante, un Dante a volte non consueto, insomma anche il Dante extra commedia che si conosce o si legge meno e ce lo portano attraverso la cosa più bella che si possa avere in teatro cioè la voce dei grandi attori. Oggi qui ce n'è uno veramente grande come grandi sono quelli che lo seguiranno e quelli che lo hanno preceduto quindi io non voglio dire altro se non esprimere la mia grande soddisfazione e grandissima emozione ogni volta che si comincia. Quest'anno abbiamo avuto un percorso un pochino più rallentato e accidentato da questioni organizzative ma devo dare di questo grande merito a Stefano Massini che in qualche modo è il dominus dell'assemblaggio di questo cast artistico di essere riuscito nel poco tempo che ci siamo trovati davanti a mettere insieme veramente quattro attori di grandissimo grandissimo spessore. Quindi io vi ringrazio ancora di essere venuti e spero che tornerete anche per i prossimi appuntamenti che ci porteranno di qui a un mese a quattro incontri nel nome di Dante e vorrei chiamare Martina che condurrà questa prima parte della serata. Grazie. Buonasera, benvenuti al primo appuntamento della nuova emizione di Leggere Dante 2008 organizzato dalla società dantesca italiana e associato da quest'anno al premio Francesco Mazzoni. Il premio Francesco Mazzoni nasce come riconoscimento a grandi interpreti del teatro italiano, attori e attrici dai percorsi diversi, dalle diverse età e scelte espressive. Un premio consegnato nel nome di quella curiosità appassionata con cui Francesco Mazzoni declinava l'idea di una cultura aperta e viva, di cui sono prova queste iniziative teatrali dantesche da lui tanto volute, seguite e onorate. Ringraziamo gli enti sostenitori della manifestazione, oltre all'ente teatrale italiano che ci ospita come sempre al Teatro della Pergola, l'Università degli Studi di Firenze nel suo Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo e il Rinascimento Digitale per l'importante collaborazione tecnica. Un ringraziamento particolare va al Comitato Scientifico del premio Francesco Mazzoni, composto da Siro Ferrone, Renzo Guardenti, Stefano Massini, Stefano Mazzoni e Riccardo Ventrella. Chiamo sul palcoscenico il Presidente della Società Dantesca Italiana, Professor Enrico Ghidetti. Grazie, buonasera, benvenuti a questa serata che segna l'inizio della terza rassegna leggere Dante che voi tutti ormai ben conoscete. Questa è la prima edizione intitolata a Francesco Mazzoni. Francesco Mazzoni è stato il maggiore interprete di Dante della seconda metà del Novecento, è stato un maestro per me e per tanti altri che sono seduti qui prima che un collega. E allora la Società Dantesca ha deciso di ricordarlo e per questo vorrei ricevere qui sul palco Stefano Mazzoni, a nome della famiglia. Prego Stefano. Dire di Stefano Mazzoni è naturalmente... ma ricordiamo adesso Francesco. Francesco, ricordarlo in un teatro forse sì, è una cosa che a Francesco Mazzoni piaceva molto, ma non credo sia la sede più adatta. Vorrei però, appunto, anche con un filo di malinconia devo dire, ricordarlo accanto al figlio e alla figlia che sono qui di fronte a noi, con un oggetto preparato appunto dalla Società Dantesca. Ecco, questa è la targa che ricorda Francesco Mazzoni e appunto la sua iniziativa del leggere danza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli artisti premiati nelle passate edizioni sono stati Massimo D'Apporto, Massimo De Francović, Roberto Erlitzka, Sandro Lombardi, Ivano Marescotti, Lucilla Morlacchi, Ottavia Piccolo e Galate Aranzi. In questa edizione saranno invece premiati Toni Servillo, Gabriele Lavia il 13 marzo, Anna Bonaiuto il 3 aprile, Giulia Lazzarini il 15 aprile. Oggi il riconoscimento viene consegnato a Toni Servillo. Do lettura della motivazione del premio. Artista eclettico e sorprendente, nel suo instancabile e poliedrico lavoro teatrale, Toni Servillo scopre un punto di incontro e di confronto fra culture diverse, quella napoletana, quella dell'avanguardia, quella del repertorio classico europeo, ma anche quella del nuovo cinema italiano. Una capacità di sintesi fra l'antico e il moderno, il classico e il contemporaneo, la memoria e la prospettiva. Già fondatore nel 1977 di Teatro Studio di Caserta, nel 1986 Toni Servillo inizia a collaborare con il gruppo Falso Movimento, interpretando Ritorno di Mario Martone e poi mettendo in scena una elaborazione da testi di Edoardo De Filippo. Un lavoro sul tessuto poetico della lingua teatrale napoletana, che si svilupperà quando nel 1987 contribuisce a fondare i Teatri Uniti, con cui realizzerà fra gli altri Partitura e Rasoi, di Enzo Moscato, Adapassà Nuttata, ancora dall'opera di Edoardo De Filippo, e Zingari, nel 1993, di Raffaele Viviani, di cui ha anche curato la regia, sapiente architettura teatrale e poetica. Ma dalla tradizione napoletana e dai percorsi della sperimentazione, compie il passaggio ad un confronto frontale con la drammaturgia classica, quando ad esempio sceglie, nel 1995, il Molière de Il Misanthropo, testo che egli scarnifica con intelligenza e particolare inventiva. Una passione per Molière che tornerà in seguito con una storica edizione del Tartufo e che si ribadirà poi nel Marivaux delle false confidenze. E il confronto con il repertorio prosegue quando in Portogallo, nel 1997, propone ad Oporto un Dappirandello a Edoardo, in cui nega ogni dittatura psicologica optando per un'ottica surreale e visionaria. Artista versatile e aperto a nuove esperienze, è stato protagonista in Elio Gabalo, diretto da Memè Perlini, e ancora nell'opera di Franco Battiato, Il Cavaliere dell'intelletto, e con Mariangela Melato in Tango Barbaro, diretto da Elio De Capitani. E infine il cinema, dove si afferma diretto da Mario Martone, in morte di un matematico napoletano. E poi in teatro, teatro di guerra, chiedo scusa, nel 1998. Ma se il trionfo con un successo unanime di pubblico e critica viene conseguito con sabato, domenica e lunedì in teatro e il pluripremiato le conseguenze dell'amore in cinema, è solo un viatico per nuove sfide, fra cui nell'ultima stagione teatrale l'allestimento di una trilogia della villeggiatura goldoniana per il piccolo teatro di Milano, tempio sacro del teatro italiano in cui Servillo ha portato la preziosa capacità analitica delle sue letture testuali improntate ad una sensibilità comica mai scontata e mai minimale, bensì fervida e spietata lama sulle contraddizioni degli uomini e delle loro società. Grazie. 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 E questa è la più preziosa edizione che si trovi in Europa, che è la mia città, che è la mia città, che è la mia città. Adesso lei va a giudicciare. Scusate. Ed ora, come è tradizione di leggere Dante, lascio la parola al professor Riccardo Bruscagli, per un'introduzione alla lettura dantesca di oggi, il cui tema è Gli amici di Dante. Vi ricordo che non è permesso tenere accesi i telefoni cellulari in sala, registrare video e scattare foto. Buonasera. Dante nasce poeta a 18 anni. Col sonetto a ciascun'alma presa e gentilcore, il primo della vita nuova è il primo che sentiremo questa sera. Qui Dante racconta un sogno. Gli è apparso amore, se lo ricorda ancora con un brivido, con orrore, come gli dice, che teneva il suo cuore in mano. E fra le braccia Madonna, la sua donna addormentata, avvolta in un drappo. Poi amore la svegliava e, vincendo la sua repulsione, le dava da mangiare il cuore stesso del poeta. Quindi si dileguava in lacrime. Dante invia il sonetto alle anime innamorate e ai cuori gentili, sollecitando interpretazioni. Chiede a tutti, in nome di amore, che gli rispondano che cosa gliene pare, suo parvente. E fin qui il sonetto. Dieci anni dopo, inscrivendo le sue poesie giovanili nel tessuto prosastico della vita nuova, Dante situa a ciascun'alma presa in una cornice di racconto ben più ricca e dettagliata. Si dice che è stato scritto appunto a diciotto anni, che l'enigmatico sogno seguiva il secondo incontro con Beatrice, la quale gli era apparsa per strada, vestita di colore bianchissimo, e gli aveva rivolto il primo dolcissimo salutare. Aggiunge nuovi particolari della visione. Amore gli era comparso dentro una nebula di colore di fuoco. Beatrice dormiva nuda, salvo che involta in uno drappo sanguigno leggeramente. Il suo cuore sembrava ardere in mano ad amore. Soprattutto cita una delle risposte ricevute. Il sonetto Vedeste, al mio parere, onne valore, di Guido Cavalcanti. Occasione della loro amicizia, o come Dante stesso dice, principio dell'amistà tra lui e me, tra lui e quelli, ancora Dante, che io chiamo primo degli miei amici. Quello di Cavalcanti in realtà non fu l'unico sonetto di risposta, pervenuto a Dante. Ne rimangono almeno altri due e di tutt'altro tenore. Uno in stile medio, come è stato detto, di Terino da Castelfiorentino, naturalmente chere ogni amadore. E un altro in stile basso, di Dante d'Ammaiano, che di fronte ai turbamenti notturni del giovane poeta innamorato, non sapeva consigliargli di meglio se non che lavi la tua coglia largamente. Ovvero, gli consigliava un bel bagnetto alle parti basse, a ciò che stinga che si estingua e passi lo vapore. Che se anche fosse consiglio dato sul serio, come qualcuno sostiene, e il sonetto avesse da leggersi come una vera e propria prescrizione medica, farebbe lo stesso, un netto contrasto, con gli altri due, e specie con quello di stile nobile del Cavalcanti. Insomma, fuori della vita nuova, prima della vita nuova, a ciascun'alma presa e gentilcore, non è ancora l'inizio di un romanzo amoroso, quanto un episodio esemplare di quella poesia responsiva, intensamente interlocutoria, fatta di botte e risposte, di provocazioni e di obiezioni e di messe a punto, di quel formato dialogico a più voci che caratterizza la nostra lirica antica. Ciò significa che Dante nasse poeta entro in una cerchia di corrispondenti, di trovatori, come dice lui stesso, complici e amici, più che nel solitario tormento della passione amorosa, come egli sembra volerci far credere nel libello compiuto. E comunque, anche nella vita nuova, il romanzo d'amore nasce insieme al romanzo amicale. La rivelazione dell'imperio di Beatrice è sincrona alla scoperta dell'amicizia. Guido e la gentilissima segnano insieme accoppiati l'esordio della vita poetica e affettiva di Dante. E infine, come Beatrice e con Beatrice, Guido aspetta il sigillo della sua esistenza e del suo rapporto con Dante nei versi del poema maggiore. Il culmine luminoso dell'intesa al momento di grazia del rapporto col Cavalcanti non potrebbe trovare espressione più giovanilmente entusiasta del celebre Guido Ivorrei. Un sogno di evasione fantastica, lui, Dante, Guido, l'altro amico, l'ippo o l'apo che sia, le loro donne in un vascello incantato da mago merlino in persona a navigare sul mare ragionando d'amore. In questa favola arturiana, ancora una volta, amore e amicizia si fondono. Anzi, la donna amata sembra quasi arrivare in seconda battuta, quale complemento sia pure assai benvenuto, della fuga dei tre amici verso le regioni del sogno. Un sogno senza Beatrice, che la donna di Dante in questo sonetto al trentesimo posto nella classifica delle più belle donne di Firenze non si vede come possa identificarsi con la gentilissima nella vita nuova saldamente attestata come conviene alla sua fatale numerologia al posto numero nove della classifica. E in questo scostarsi dalla monomania beatricizzante della vita nuova, Guido e Vorrei conferma il sottile antagonismo fra il romanzo d'amore e il romanzo amicale e quasi la guerra a distanza tra la donna che non riconosce rivali e non concede distrazioni e l'amico che passa invece indenne attraverso donne diverse e diverse stagioni della vita e dei sentimenti di Dante innamorato e poeta. Anche Guido e Vorrei ebbe una risposta da parte del Cavalcanti il sonetto se fossi quelli che d'amor fu degno che sentiremo tanto che si è potuto parlare in proposito di una tenzoncina fra i due poeti. Guido ribatte alla fantasticheria di Dante malinconicamente al solito stendendo sul sogno dell'amico l'ombra della propria invalicabile solitudine. Sarebbe bello imbarcarsi su quel legno e gli dice se lui fosse ancora quello di una volta ma di quel Guido non c'è più che rimembranza. La sua donna ostile lo ha al solito piagato crudelmente il suo spirito fedito non può che contemplare senza difesa la propria disfatta lo spirito fedito li perdona vedendo che li strugge il suo valore. Il chiaroscuro dei sentimenti tuttavia non implica ancora una rottura ma anzi lascia quasi intravedere una complementarietà d'indole e di disposizione affettiva. Altro traspare invece dal sonetto di Guido Ivegno il giorno a te infinite volte qui Guido prende atto con amarezza di una distanza che prelude ormai a un vero e proprio disamore. Io vengo a trovarti ogni giorno infinite volte dice Cavalcanti ma soltanto col pensiero ormai perché siamo diventati troppo diversi e non ci intendiamo più. Tutti mescoli con gente indegna di te e di noi noiosa gente dice il sonetto gente spiacevole e anche in poesia abbiamo preso strade diverse è lontano ormai il tempo di quando io avevo ricolte cioè fatte mie tutte le tue rime. C'è chi ha voluto vedere nella noiosa gente di questo sonetto l'accenno esplicito alla parte politica a cui Dante si stava accostando quei bianchi quel centro dello schieramento politico fiorentino a cui si contrapponeva l'aristocraticismo dei neri di cui Guido fu capo audace e riconosciuto e in questo senso il sonetto sarebbe diretto preludio alla drammatica rottura politica fra i due amici come sappiamo dopo il tumulto del San Giovanni nel 1300 quando fu deciso di espellere da Firenze i capi più turbolenti delle parti Dante era priore e gli si trovò dunque a sottoscrivere di persona l'esilio di Guido che dopo poco morì ma in poesia il romanzo amicale non finisse così nella settimana di Pasqua del 300 data fittizia del viaggio di Dante nell'aldilà Guido Cavalcanti non è morto né Dante può di conseguenza trovare il suo amico nell'aldilà per una resa dei conti definitiva e gli prende comunque congedo da lui per interposta persona nel canto decimo dell'inferno attraverso l'incontro col padre Cavalcante dei Cavalcanti controfigura morale di Guido in quanto notoriamente macchiato dello stesso peccato credere con gli epicurei che l'anima muoia col corpo d'un ironico contrappasso del sepolcro che gli epicurei pensavano fine di tutto trasformato qui in una prigione infuocata in un'atroce camera di tortura se per questo cieco carcere vai per altezza di insegno mio figlio vè e perché non è teco così apostrofa Cavalcante la Lighieri come dire se si viene all'inferno per altezza di intelligenza perché tu e non Guido non era mica meno bravo e intelligente di te dunque per Cavalcante impenitente materialista ci si guadagna il biglietto per l'aldilà con meriti umani in una sorta di concorso tra intelletti d'eccezione donde la delicata correzione di Dante per me stesso non vegno no non ho vinto nessuna competizione di intelligenza se io sono qui non è per i miei meriti colui che attende là la mia guida a Virgilio mi conduce forse cui Guido vostro ebbe a disdegno quanto inchiostro su questo disegno di Guido e su quel cui Beatrice Dio stesso probabilmente Beatrice in quanto guida a Dio emblema di un amore che al contrario di quello del Cavalcante non si consumava in frustrazione e disperazione ma si trasfigurava in grazia in accesso alla sapienza umana e divina attraverso il breve dialogo con Cavalcante Dante opera dunque il distacco penoso e definitivo dal suo primo amico allontanato in una dimensione morale filosofica ormai inconciliabile con la sua compagno di strada perduto dannato anzitempo a meno che non si voglia vedere in quel forse forse cui Guido vostro ebbe a disdegno uno spiraglio lasciato socchiuso sui misteri dell'anima di Guido ma allo stesso tempo il fatto che qui si immagini un Cavalcante che istintivamente cerca Guido accanto a Dante come in un duo amicale inseparabile proverbiale richiama alla memoria ciò che Dante e il suo primo amico erano stati mentre sigilla in un amaro finale il romanzo di Guido e di Dante l'episodio insinua anche in sordina l'elesia di un tempo diverso del forse troppo facile sogno arturiano sopraffatto e svanito l'amicizia con Cino e la Pistoia fu tutt'altra cosa Cino si presta bene nel gioco delle parti stilnovista a recitare il ruolo di chi fluidifica la partita agevola i rapporti concilia le posizioni e qui in questa sua amabile adattabilità è la sua vera distanza da Dante nelle schermaglie morali amorose della loro corrispondenza per la Ligieri non è mai solo questione di convenzioni letterarie o di marginalia dell'esistenza per Dante è sempre in gioco il presupposto stesso della poetica stilnovista l'inesorabile conformità di vita e poesia questo rapporto governa anche il diagramma dell'amicizia di Dante col terzo e ultimo degli amici suoi di cui parleremo qui stasera forese donati anche questa è un'amicizia che nasce entro una poesia destinata indirizzata ad un destinatario dialogica e che arriva a compersi poeticamente nella divina commedia è un'amicizia infatti che consuma il suo primo atto nell'attenzione giovanile di Dante e Forese sei sonetti in cui i due giovani poeti si scambiano ingiurie insinuazioni oscenità certo in questo tipo di letteratura è sempre difficile decidere quanto appartenga alla verità biografica e quanto invece sia puro gioco letterario anche qui insomma è rischioso chiedersi se la moglie di Forese prendesse davvero la bronchite perché di notte era coperta poco e male dal cortonese del marito o se gli alighieri fossero davvero debitori insolventi e poveri mendichi o se Forese a sua volta fosse un goloso impoverito a forza di abbuffate gastronomiche e ladro per giunta ciò che importa è che questo antefatto ingiurioso è sicuramente sotteso nell'incontro di Dante Forese in Purgatorio nella cornice dei Golosi dove la Lighieri esplicitamente menziona con tono innegabile di pentimento i comuni trascorsi terreni se tu riduci a mente qual fosti meco e qual io teco fui ancor fia grave il memorare presente e chiara riparazione suona in particolare il tenero ricordo da parte di Forese della sua vedovella della sua caranella la moglie oscenamente presa in giro nel primo sonetto tenzonante e qui affettuosamente evocata invece nella devota attitudine della preghiera frequente per il marito defunto anzi la riparazione è tanto precisa da avere indotto qualcuno a dubitare dell'autenticità della tenzone stessa sospettata di essere un falso costruito proprio per rappresentare un calzante antefatto dell'incontro purgatoriale fra Dante e Forese ma data per autentica la tenzone non può non colpire comunque come Dante usi l'affizio l'invenzione della commedia per smentire il dissidio probabilmente a sua volta in gran parte fittizio della tenzone giovanile ovvero immaginando l'incontro in purgatorio con Forese Dante restituisce all'indietro retrospettivamente consistenza e serietà biografica ad una tenzone che con tutta probabilità era stata comunque largamente letteraria ma da questo gioco di finzioni ciò che rimane alla fine è come sempre in Dante il deposito profondamente umano dell'esperienza Forese si lascia passare avanti i compagni di pena e non potendo trattenersi più a lungo con l'amico se ne esce in un disarmante quando fia ch'io ti riveggia quando ti rivedrò domanda imbarazzante perché rivedersi per Dante significa naturalmente morire e infatti egli risponde non so quant'io mi viva non so quanto mi resta da vivere quando fia ch'io ti riveggia frase di tutti i giorni domanda banale che acquista sullo sfondo dell'eterno una sorta di straniata maldestria tenero e incongruo a rivederci che ricompone nell'aldilà la storia travagliata di un'amicizia e in purgatorio luogo di risarcimento e di terapia sembra rispondere a distanza alla versione infera negativa del romanzo amicale rappresentata dal rapporto col Cavalcanti è forese adesso il nuovo amico l'ultimo amico di Dante la distanza dal suo primo amico e da quel primo sonetto è quella che passa dal buio disperato dell'inferno al cielo luminoso del purgatorio a ciascun'alma presa e gentilcore nel cui cospetto ven lo dir presente in ciò che mi riscrivan suo parvente salute in lor signor cioè amore già eran quasi che a terzate l'ore del tempo che onne stella ne è lucente quando mapparvi amor subitamente cui essenza membrar mi dà orrore allegro mi sembrava amor tenendo mio core in mano e nelle braccia avea madonna involta in un drappo dormendo poi la svegliava ed estocore ardendo lei paventosa umilmente pascea appresso girlo girlo navidea piangendo vedeste al mio parere ogni valore e tutto gioco e quanto bene on sente se foste in prova del signor valente che signoreggia il mondo dell'onore poi vive in parte dove noia amore e tien ragion nel cassar della mente si va soave per sonno alla gente che il col ne porta senza far dolore di voi lo core ne portò veggendo che vostra donna alla morte cadea non drilla de lo core dicio temendo quando vaparve che sengia doliendo fu dolce sonno che allorsi compiea che il su contraro lo venia vincendo guido io vorrei che tu e lippo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio sì che fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento anzi vivendo sempre in talento di stare insieme crescesse il disio e monna vanna e monna laggia poi con quella che è sul numer delle trenta con noi ponesse il buono incantatore e quivi ragionare sempre d'amore e ciascuna di lor fosse contenta siccome credo che saremo noi i i vegno il giorno a te infinite volte e trovo ti pensare troppo vilmente molto mi dol della gentil tua mente ed assai tue vertù che ti son tolte sollevanti spiacer persone molte tutt'or fuggivi la noiosa gente di me parlavi sicura le mente che tutte le tue rime avie ricolte or non ardisco per la vil tua vita far mostramento che tu dir mi piaccia ne inguisa vegno a te che tu mi veggi se il presente sonetto spesso leggi lo spirito noioso che ti caccia si partirà dall'anima invilita allora surse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa infino al mento credo che s'era in ginocchia elevata d'intorno mi guardò come talento avesse di vedersi altri era amico e poi che il sospeciar fu tutto spento piangendo disse se per questo cieco carcere vai per altezza di ingegno mio figlio ov'è e perché non è teco e io a lui da me stesso non vegno colui che attende la per qui mi mena forse cui guido vostro ebbe a disdegno le sue parole e il modo della pena ma vean di costui già letto il nome però fu la risposta così piena di subito drizzato gridò come dicesti elli ebbe non vivelli ancora non fiere gli occhi suoi lo dolce lume quando s'accorse d'alcuna dimora che io facea dinanzi alla sua risposta subì ricadde e più non parve fora perché io non trovo chi me go ragioni del signore a cui siete voi e io conviemmi soddisfare al grandisio che ho di dire i pensamenti buoni null'altra cosa apo voi macagioni del lungo e del noioso tacermio se non in loco ovi son che essi il rio che il ben non trova chi albergo gli doni donna non c'è che amor le venga al volto ne uomo ancora che per lui sospiri e chi il facesse qui sarebbe stolto ah messer cin come il tempo è rivolto a nostro danno e deli nostri diri poscia che il bene è si poco ricolto dante io non odo in quale albergo sonilo ben che da ciascun messo in oblio è si gran tempo che di qua fuggio che del contrario son nati li troni ma per le variate condizioni chi il bene tacesse non risponde al fio lo ben sa tu che predicava i dio e non tacea nel regno dei dimoni dunque se il ben ciascun ostello è tolto nel mondo in ogni parte dove ti giri vuoli tu ancora far dispiacere molto di letto frate mio di pene in volto mercè per quella donna che tu miri dopra non star se di fe non sei sciolto chiudisse tossir la malfatata moglie di bici vocato forese potrebbe dire che la forse vernata dove si fa il cristallo in quel paese di mezzo agosto la trovi infreddata or sappi che deve far d'ogni altro mese e non le val perché dorma calzata merced del copertorio caccortonese la tosse il freddo e l'altra malavoglia non la dovien per omor cabbia vecchi ma per difetto che ella sente al nido piange la madre che ha più d'una doglia dicendo l'assa che per fichi secchi messa l'avrei in casa il conteguito già era in ammirar che si li affama per la cagione ancora non manifesta di lor magrezza e di lor trista squama ed ecco del profondo della testa volse a me gli occhi un'ombra e guardò fisio poi gridò forte qual grazia m'è questa mai non l'avrei riconosciuto al viso ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé avea conquiso questa favilla tutta mi raccese mia conoscenza alla cangiata labbia e ravvisai la faccia di forese d'è non contendere all'asciutta scabbia che va la pelle né a difetto di carne che io abbia ma dimmi il ver di te di chi son quelle due anime che lati fanno scorta non rimaner che tu non mi favelle la faccia tua che io lagrimai già morta mi da di pianger mo non mi nordoglia rispuosi o lui veggendola si torta però mi di per dio che si vi sfoglia non mi far dio non mi far dir mentre io mi maraviglio che mal può dire chi è pien d'altra voglia ed sta gente che piangendo canta per seguitare la gola oltre misura infame in sete qui si rifa santa di bere e di mangiar nascende cura l'odor che esce del pomo e dello sprazzo che si distende su per sua verdura e non pur una volta questo spazzo girando si rinfresca nostra pena io dico pena e dovrei a dir sollazzo che quella voglia agli alberi ci mena che meno Cristo lieto a dir e lì quando ne liberò con la sua vena ed io a lui forese da quel dì nel qual mutasti mondo a miglior vita cinque anni non son volti infino a qui se prima fu la possa in te finita di pecca più che so venisse l'ora del buon dolore che a Dio ne rimarita come se tu quassù venuto ancora io ti crede a trovarla giù di sotto dove tempo per tempo si ristora on degli a me si tosto ma condotto a berlo dolce assenso di martiri l'anella mia con suo pianger dirotto con suoi preghi devoti e con sospiri tratto ma della costa dove s'aspetta e liberato ma degli altri giri tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia che molto amai quanto in bene operare e più soletta che la barbagia di sardigna assai nelle femmine sue più epudica che la barbagia dove io la lasciai no dolce frate che vuo tu ch'io dica tempo futuro me già nel cospetto cui non sarà quest'ora molto antica nel qual sarà in pergamo interdetto alle sfacciate donne fiorentine l'andar mostrando con le poppe il petto quai barbare fuormai quai saracine cui bisognasse per farle ir coperte o spirituali o altre discipline ma se le svergognate fossero certe di quel che il cielo veloce loro ammanna già per urlar avrían le bocche aperte che se l'antiveder qui non mi inganna prima fien triste che le guance impeli colui che mo si consola con nanna e come l'uomo che di trottare l'asso lascia andare i compagni e si passeggia finché si sfoghi l'affollar del casso si lasciò trapassar la santa greggia forese e dietro me cos'è veniva dicendo quando fia che io ti riveggia non so risposio lui quant'io mi viva ma già non fia il mio tornare tanto tosto che io non sia col voler prima alla riva però che loco u fui a viver posto di giorno in giorno più di ben si spolpa e a trista ruina par disposto or va disse non puote tu ti rimani o mai che il tempo è caro in questo regno sicchio perdo troppo venendo te così apparo apparo qual esce alcuna volta di gualoppo lo cavoliere di schiera che cavalchi e va per farsi onor del primo in top tal si partì da noi con maggior valchi ed io rimasi in via con esso i due che fuor del mondo si gran ma riscalchi grazie 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 grazie